Basta, venerdì 10 maggio è arrivato il momento di fare un appello a Gerry Cardinale. Prima di iniziare questo importante appello però andremo a parlare di quello che sta succedendo dopo l'intervista di Maldini perché effettivamente alciato il giornalista che ha realizzato l'intervista ha fatto qualche storiellina sui suoi canali social veramente veramente piccata. Per iniziare però mi raccomando ragazzi non fatelo ripetere sempre al sottoscritto, pollice o censura il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e le notifiche e mi raccomando cerchiamo di fare arrivare questo contenuto al signor Gerry Cardinale. Prima di iniziare con l'appello a Gerry però ragazzi cosa è successo veramente dopo l'intervista di ieri? È stata un'intervista molto elegante, io inizialmente mi sono stupito poi però ho riflettuto sul fatto che Paolo Maldini è ancora sotto contratto con il Milan fino a fine giugno perché tecnicamente quando aveva rinnovato aveva rinnovato di ulteriori due anni e quindi magari non poteva lasciarsi andare a qualche esternazione diretta. È stata molto elegante paragonando la situazione del Milan a quella dell'Inter e a quella del Napoli facendo intendere che senza una società forte, senza una società con ruoli ben definiti e con unità aziendale non si va da nessuna parte e infatti l'abbiamo visto col Napoli dopo aver mandato via sia l'allenatore che il direttore tecnico. Ora appello a Gerry Cardinale. Come on, come on, my friend, Gerry Cardinale. Look at me, look at me Gerry Cardinale. Look at me, nella tua lingua così mi capisci. Look at me. Mi stai luccando? Benissimo. Iniziamo. Ora, caro Gerry Cardinale, io voglio credere alla ricostruzione che mi sono fatto nella mia capoccia perché o tu per un anno veramente credevi con quelle dichiarazioni, ce le ho tutte salvate, voglio vincere non una volta ma tante volte, voglio arrivare in cima, voglio costruire un progetto vincente per tanti anni, voglio rendere il Milan e far tornare il Milan lì dove merita. O tu sei un pazzo che credevi con queste dichiarazioni di prendere per il culo i tifosi del Milan, oppure c'è un fondo di verità. E il fondo di verità è che c'è qualcun altro dietro di te, Elliot, ogni riferimento a cosa o persona non è casuale, che in qualche modo sta cercando di frenarti perché, sappiamo benissimo, tu devi al fondo americano circa, saranno più o meno, 700 milioni malcontati, no? Ora, io voglio credere, voglio credere alle tue parole e voglio credere alla storiella che veramente ti stanno tenendo con le cinghie per evitare di farti fare quello che vuoi. Ora però, sono usciti i numeri, caro Jerry Cardinale, my old friend Jerry Cardinale, Mr. Cardinale, per dire all'americana, Cardinale, così magari interagiamo un po' meglio, non puoi scappare dai numeri. I numeri sono quelli, il Milan, come ho detto nel video di ieri, a proposito, se volete veramente sapere quanti soldi potrà spendere il Milan, carti alla mano, andate a vedere il video di ieri, però obiettivamente è uscito che il Milan potrà spendere 100 milioni di euro senza uscire dai paletti del fair play finanziario e quindi non solo ci possiamo permettere Conte, ma ci possiamo permettere anche il mercato che chiede Conte, fermo e considerando che Conte ha lasciato intendere, proprio ha lasciato intendere che può sposare un progetto a lunga scadenza, importante sarà l'aspetto della comunicazione, vuole costruire un qualcosa di importante e senza prenderci per il culo, il Milan in questo momento è il migliore club che tu puoi prendere per costruire qualcosa, dato che siamo proiettati a livello di fatturato veramente a cime mai raggiunte prima, grazie al lavoro di sponsor eccetera eccetera eccetera, fatto da Furlani e chi per lui prima, però stiamo raggiungendo quelle scime. Quindi, Jerry Cardinale, mettiti in una botte di ferro, my old friend, prendi Antonio Conte, perché Antonio Conte in un attimo ti risolve tutti i problemi, fa tramutare le tue tante parole infatti, il tifoso del Milan qualora prendessi Conte non potrebbe mai dirti nulla, perché qualora riuscissimo in futuro a vincere, hai fatto il massimo che dovevi fare, ma qualora non riuscissimo a vincere il primo anno, hai fatto quello che dovevi fare, hai fatto il massimo, hai preso l'allenatore più vincente che c'era, quindi il tifoso del Milan non potrebbe mai averla contro di te. Ricordiamo in qualche modo il danno di immagini importante, voi proprietà americane siete attentissime all'immagine, la protesta dei tifosi rossoneri è stata ripresa anche da Forbes praticamente, quando i tifosi hanno lasciato dieci minuti prima lo stadio, la curva sud del Milan con gli striscioni prima, esposti il cosiddetto sciopero del tifo, il rumore del silenzio, è stato ripreso in tutta Europa, siete molto attenti voi ai cosiddetti danni d'immagine e sicuramente in futuro volete evitarne altri. Un solo nome, Antonio Conte e vi siete messi in una botta di ferro, non devo dire io, non devo darvi io questi suggerimenti, di porca di quella puttana, anche perché, no? Ora, ipotizziamo uno scenario senza Antonio Conte, siete così pazzi da prendere Fonseca, che fortunatamente si sta accasando all'Olimpique Marsiglia, le prime due sconfitte dell'anno se ne cala giù lo stadio, siete così pazzi da prendere un allenatore esotico come Rose, come altri altri nomi non mi vengono in mente, prime due sconfitte se ne viene giù lo stadio, prendete un manifesto vincente come Antonio Conte, le prime due sconfitte ci sarà il triplo del supporto, ci sarà il triplo del supporto perché con Antonio Conte prendi l'idea di un allenatore vincente e sai che prima o poi qualcosa la porti a casa. Quindi, my friend, look at me, look at me, e look at me un'altra volta, mi raccomando, Antonio Conte, questo è il mio appello. Siamo venerdì 10 maggio, ora, io voglio veramente, voglio credere da tifoso l'indiscrezione che sta circolando in questi giorni, secondo cui il Milan avrebbe già tutto fatto con un nuovo allenatore, che tutto quello che sta uscendo a livello dei giornali, dei giornalisti, eccetera, 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 sono solo illazioni, indiscrezioni fatte filtrare appositamente da casa Milan, da una parte per capire le talpe all'interno del Milan, dato che ci sarà come vi anticipai una grande epurazione per chi gestisce la comunicazione intorno al mondo di Milan e sia perché vuoi in tutti i modi depistare il vero allenatore. È uscita insieme a questa notizia anche l'indiscrezione di un ulteriore incontro in un noto ristorante di Milano tra Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic, molto probabilmente per fare tutto in segreto e voglio crederci, perché fino a quando non vedrò Antonio Conte accasarsi ufficialmente ad un'altra banchina, voglio credere ad Antonio Conte al Milan. Cerco di collegare puntini, non sono un giornalista, però voglio credere ad Antonio Conte al Milan nell'unico modo che è nel 2024 per fare le cose in gran segreto e trattare direttamente senza intermediari. Magari Antonio Conte si sta autorappresentando, stanno facendo tutto in gran segreto, perché ragazzi, obiettivamente ci sono due, anche ieri c'è stata una live di Pelle Gatti con Luca Serafini. Come vedete da una parte c'è proprio il Pelle Gatti che è un totale muro, non credo in Antonio Conte, gli hanno sempre smentito, ma dall'altra c'è Serafini che per fonte direttissime ha ottenuto e ha saputo per certo che Antonio Conte non solo non vuole l'ingaggio che stanno facendo passare per fare cattiva comunicazione, o un ingaggio che comunque chiederebbe al Napoli in una situazione di panico, lui al Milan chiederebbe molto meno, si accontenterebbe dei 6-7 milioni, con la possibilità di costruire per la prima volta un vero progetto vincente a lunga scadenza e dimostrare agli altri, ma soprattutto a se stesso, che non è l'allenatore che tutti defincono, che comunque lo era e che nel corso del tempo è riuscito ad evolversi in meglio. Ieri Maldini nell'intervista molto bella che ha fatto, andatela a vedere sul canale YouTube Serie A, praticamente ha paragonato, non come credo, ma come modo di essere caratteriale Antonio Conte a sacchi, allenatori così esigenti, così tanto esigenti verso se stessi e verso gli altri, si consumano in fretta, ma lasciano un qualcosa di importante, per questo io vado contro tutti quelli che dicono Antonio Conte che lascia macere, non è vero, Antonio Conte ti può lasciare qualche danno collaterale come è stato il Vidal all'Inter, però Antonio Conte ti lascia una cultura del lavoro importante e soprattutto può far raggiungere ai tuoi top player come Magnan, qualora dovesse intendersi bene con le auto, con le auto, il Rantz e Vette mai raggiunte e soprattutto una crescita esponenziale dei giovani che vai a prendere, io non oso pensare cosa possa mai diventare un Musa con Antonio Conte, un Ciao, un Calulu, eccetera, 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 quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo appello disperato a Gerry Cardinale oggi che è il 10 maggio, bisogna fare qualcosa, dobbiamo muoverci, dobbiamo farlo adesso, pollice o senza like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e le notifiche, tutto gratis, offro io e ci vediamo domani con un altro video a tema Mirac, da Gerry!